Bene amici, cantinetta di gennaio, last second, è quasi febbraio e febbraio c'è il Mobile World Congress quindi la fiera più importante per quanto riguarda la telefonia allora questo sarà un video, sì cantinetta, sì vedremo gli aggiornamenti ma soprattutto vi darò anticipazioni e rumor sulle novità che dovranno essere presentate Partiamo subito da iPhone 12.1.3, la versione del software sostanzialmente non è cambiato nulla, qualche debug e al Mobile World Congress anche lì nulla perché Apple storicamente non presenta mai niente fa sempre storia a sé e questo sta facendo comunque scuola anche sugli altri produttori Note 9 anche qua nulla nel mio, vedete ancora Android 8.1 con la Samsung Experience 9.5 con le patch di dicembre 2018 non c'è ancora la One UI ma su tanti, Note 9 è già arrivato e siccome io la One UI l'avevo flashata manualmente qua sulla versione beta sull'S9 Plus voglio aspettare sul Note 9 invece che mi arrivi in OTA Sul S9 Plus, paio ufficiale, è arrivato, firmo e ritaglia, versione Android 9 vedete One UI 1.0 con le patch di dicembre nulla di diverso rispetto all'approfondimento che avevo fatto qualche cantinetta fa mi pare un paio di cantinette fa, a me piace molto la nuova grafica di questa interfaccia ma vi rimando a quella cantinetta, qua vi do qualche anticipazione su S10 che arriverà però anche qua non al Mobile, qualche giorno prima il 20 febbraio lancio a San Francisco noi andremo a Londra perché per la stampa europea hanno pensato al Mobile World Congress dopo tre giorni fare un travaso oceanico sarebbe un po' complicato lancio S10 in tre versioni, questo è quasi certo, versione light, versione normale, versione plus un po' più piccolo, medio, un pochino più grande con il foro nel display anteriore grande stabilizzazione della camera posteriore, almeno questi sono i rumors e anche una versione 5G, ma i prezzi dagli 800€ del light fino ai 1600-17 del 5G che però avrà addirittura 12GB di RAM, 1TB di memoria, insomma numeri astronomici serviranno sicuramente da mettere in scheda tecnica per il celodurismo, sì, ma lo vedremo presto, sono curioso e poi andiamo di G7, cosa è successo? Nulla era arrivato l'aggiornamento nella cantinetta precedente, vedete qua siamo ancora a novembre e sul G7 che intanto cancello dalle notifiche, vi parlo di Mobile World Congress dovrebbe essere rivoluzionario il Mobile World Congress DLG mi è già arrivato l'invito della conferenza stampa al 24, il teaser dice goodbye touch, con anche un video delle gesture che state vedendo qua e preannuncia un telefono rivoluzionario, una nuova forma di interazione vedremo, sono curioso, sarà user friendly, non lo so, poi un 5G con Snapdragon 855 e 4000 mAh che sia il G8 non lo so, Honor arriva a Pi su Honor 10, eccolo qua con Emotion UI 9, patch di novembre arrivano le gesture, quindi la possibilità di utilizzare questo nuovo sistema di movimento nel telefono e tutte le novità che abbiamo visto sui Pi dell'Emotion UI, Mobile World Congress, nulla perché hanno presentato questo, appena presentato adesso a gennaio, il VU20 ovviamente è una new entry in cantinetta, quindi non ci sono novità rispetto alla recensione fatta poco tempo fa e poi andiamo di OnePlus, ecco qua il 6T, Oxygen 9.0.11, le patch di dicembre che sono nascoste in qualche altro menu non mi ricordo più quale, vabbè cosa succede? Sicurezza blocco schermo, sì, patch vedete, primo dicembre 2018 cosa succede al Mobile World Congress? Nulla perché anche OnePlus presenterà il suo 5G con il 9.55 che tra l'altro l'ha già preannunciato, in teoria dovrebbe essere il primo ad essere messo in commercio ma non arriverà al Mobile World Congress e poi Pocophone F1, è arrivata finalmente la MIUI 10.2.2, vedete qua, basata ovviamente stabile su Android 9 con le patch di dicembre era già arrivata nella versione precedente, mi sembra la possibilità di vedere le notifiche ma solo una volta, quindi compaiono e poi scompaiono quando invece le avete già lette e questa cosa succede anche sul MIUI 8 Pro ma dopo, adesso vi parlo del Mi Mix 3 anche su Mi Mix 3, guardate, è arrivato Pi stessa, più o meno stessa versione, forse un punto in meno 10.2.1 aveva già le gesture qualche miglioramento ah, una cosa, mi stavo dimenticando una cosa che puntano molto in poco, arrivati i video a 960 fps e niente per quanto riguarda Barcellona quindi vi dicevo, Pi sul Mi Mix 3 e Pi, fortunatamente, anche sul Mi 8 Pro, lo vedete qua e quindi anche sul Mi 8 Pro la possibilità di vedere finalmente la, diciamo, l'anteprima delle notifiche solamente quando arrivano poi basta leggerne una o comunque basta accendere il telefono che scompaiono vi faccio vedere anche qua il menu che è questo qua vedete, mostra icone per le notifiche in arrivo si vedono là quando arrivano ma flashano che strana scelta Xiaomi, a Barcellona ci sarà? sì, ci sarà, ci sarà anche una novità con Xiaomi, non vi dico niente conferenza domenica 24 quasi sicuro il Mi 9 tripla camera posteriore si dice 48 megapixel tra l'altro come su Redmi 7 e poi probabile 855 carica wireless, stacca a goccia non lo so, vedremo, vedremo perché tutte le conferenze che io vi dico ve le farò vedere live sul blog e poi Pixel 3 ovviamente uno dei più aggiornati page di sicurezza al 5 gennaio del 2019 non cambia praticamente niente e nulla al Mobile World Congress Sony XZ3, new entry in cantinetta perché Sony si è dimenticato di ritirarmelo speriamo che non veda questo video page di sicurezza al 1 gennaio 2019 con versione Android 9.0 la novità sono le patch perché comunque la versione di Android era già in uscita con Pi o comunque era stata aggiornata settimane fa adesso non mi ricordo bene la storia e vi dico Mobile World Congress praticamente certa la presentazione dell'XZ4 è già arrivato l'invito per lunedì 26 mi pare sì, o lunedì 25 non mi ricordo più sono andato in pappa con le date lunedì 25 dovrebbe essere la prima conferenza del mattino ore 8.30 si parla anche lì di tripla camera di cui una TOF quindi per l'effetto di profondità una main da 52 megapixel e una tele da 16 megapixel anche qua si parla di Snapdragon 855 6,3 pollici di display e comunque continuano sui display OLED Huawei P20 Pro e Mate 20 Pro qua in cantinetta finalmente è arrivato l'aggiornamento a Pi con anche la GPU Turbo per quanto riguarda il Huawei P20 Pro anche qua andiamo a cancellare un pochino di notifiche e su Mate 20 Pro aggiornamento alle patch di dicembre lo vedete qua ma stamattina qualcuno è arrivato anche l'aggiornamento alle patch di gennaio a me non è ancora arrivato aspetto l'OTA ma sapete gli aggiornamenti non sono sempre diciamo paralleli su tutti i telefoni perché immaginate dover mandare un'OTA con decine e decine centinaia di megabyte a volte qualche gigabyte a migliaia centinaia di migliaia di telefoni si andrebbe tutti in pappa e quindi gli aggiornamenti sono scaglionati detto questo pippone Mobile World Congress conferenza il 24 sicuro il nuovo chip 5G l'han già fatto vedere a qualcuno in Cina si vocifera di un telefono pieghevole ma ci sono ancora pochi rumori questa cosa non so se è positiva o negativa potrebbe essere positiva per il fatto che Huawei è riuscito a tenere segretissima questa notizia del nuovo telefono negativa perché forse invece non vedremo nulla se non l'annuncio del nuovo processore e forse qualche tablet non lo so Asus Zenfone 5Z anche qua finalmente è arrivato pie vedete versione Android 9 quel pie che stavo aspettando sullo Zenfone Max Pro M2 un nome assurdo che mi ha stupito per quanto riguarda l'autonomia e che diciamo ha lanciato il nuovo corso di Asus perché questo è il 5Z e vedete che qualche personalizzazione di Asus comunque comunque c'è invece sul nuovo telefono che ho appena recensito con batteria 5.000 mAh incredibile ma abbiamo Android puro e proprio questo cambio di rotta da un'interfaccia da personalizzatissima di qualche anno fa un po' meno personalizzata qua e completamente stock sul Max questo cambio di rotta ha fatto sì che slittasse anche il programma Mobile World Congress quindi Asus non presenterà niente non farà la conferenza ma probabilmente poco dopo arriverà il nuovo top di gamma con le nuove linee guida perché è cambiato anche il management in Asus e poi fine del primo piano con l'Oppo Lamborghini rimane la versione software 8.1 di Android ColorOS 5.2.1 ma arriva una grande novità no novità solamente per il mercato europeo l'avete già vista le gesture perché erano a pannaggio solamente del mercato cinese infatti gli Oppo venduti in Italia non non avevano questa questa possibilità invece finalmente è arrivata è arrivato l'aggiornamento che introduce questa possibilità ma soprattutto Mobile World Congress per Oppo sarà con il botto ci sarà sicuramente la conferenza stampa il 23 sabato pomeriggio tardi ci sarò camera 10x e display pieghevole questi sono i rumor sappiamo sempre stato avanti sulla tecnologia il primo diciamo telefono motorizzato con le camere nascoste quindi secondo me ci tirerà fuori qualche chicca e poi il piano di sotto Xiaomi Mi A2 cosa è successo banalmente sono arrivate le patch di gennaio null'altra particolare novità Redmi Note 7 che va a sostituire quel 5 che io ho sempre definito Best Buy ovviamente è un potenziale Best Buy anche il 7 ho fatto l'anteprimo ho già provato la batteria dura un sacco bello la camera diciamo così a goccia ho anche sbloccato il bootloader ma non c'è ancora la versione Global quindi in attesa della versione Global lui sta qua parcheggiato in attesa di essere decadato Best Buy o meno e poi Honor 9 ancora la 8.0 cosa è successo mi si è spento vabbè ma con tra l'altro mi ha riconosciuto la faccia ma con le patch di dicembre non so se tenerlo in cantinetta o meno ci sono tanti Honor sono 4 magari fatemelo sapere nei commenti magari tengo solo il 10 o magari tengo solo il 9 per vedere se Honor aggiorni i telefoni vecchi e invece dismetto il 10 vi parlo del 9 Lite lo tengo in cantinetta perché è sostanzialmente uno dei telefoni che mi è piaciuto un sacco è stato uno dei miei Best Buy preferiti e ha venduto un casino ancora Android 8 ma guardate rispetto al suo fratello maggiore ha già le patch di gennaio 2019 2019 e poi il P10 Lite anche lui con le patch di gennaio Way Honor stiamo andando sotto con gli aggiornamenti non di versione perché molto probabilmente questi telefoni non arriveranno a Pi però quantomeno le patch vengono aggiornate che poi è la cosa più importante vivo Next S sono arrivate le patch di dicembre ma questo è probabilmente l'ultimo giro che lo vedrete qua in cantinetta perché tra l'altro il diciamo il log dice che è più veloce lo sblocco con l'impronta digitale a me non sembra sia molto più veloce rispetto a prima non è dei più veloci ma comunque sto il primo a implementarlo e dicevamo perché lo tolgo dalla cantinetta perché in arrivo il nuovo Next con doppio display in realtà ho già il tracking code me lo stanno spedendo anzi me l'hanno già spedito ma in Cina è il capodanno cinese e quando l'hai il capodanno cinese è come Ferragosta noi non lavora più nessuno anche Diachelle lo ingecenze insomma un disastro speriamo che mi arrivi presto quantomeno prima di un po' di viaggetti che ho in previsione Mobile World Congress no conferenza ma probabilmente dovremmo vedere Apex 2019 il primo smartphone senza niente no il display c'è ma non c'è nient'altro non ci sono le porte quindi tutto wireless non ci sono pulsanti quindi probabilmente scocca capacitiva non so sull'usabilità va provato ma ho qualche dubbio ho sempre più la sensazione che il design vada a essere più importante rispetto all'usabilità dei nuovi telefoni comunque mezzo sedicesimo finalmente aggiornamento però è sempre un po' vecchietta la patch di sicurezza vedete primo ottobre 2018 ma questo è sempre un telefono che quando prendo in mano e uso mi piace perché è piccolino è compatto è veloce è reattivo c'è simmetria tra parte sopra e parte sotto insomma è un telefono interessante magari poco seguito ma interessante e poi il G6 cosa è successo al al G6 scusate vediamo qua lo prendo in mano lo sblocco sono arrivate le patch di novembre ma c'è sempre Oreo non mi ricordo se il G6 era tra quei telefoni che LG aveva dichiarato di voler aggiornare a Pi o no ma LG sui aggiornamenti non è proprio un fulmine di guerra tra l'altro dal prossimo accantinetto probabilmente sarà anche il V40 che sto per recensire G7 attenzione patch di gennaio nell'attesa nell'attesa di Pi perché qua Pi arriverà non so ancora quando ma sicuramente arriverà G7 quindi che continua a essere aggiornato da parte di Samsung e stessa cosa per quanto riguarda la 8 vedete arrivate le patch di gennaio sul telefono tra l'altro come vedete là dietro ho la 9 siccome non posso tenere troppi Samsung già ne ho 4 boh magari fatemi sapere nei commenti se volete vedere come Samsung seguirà la 8 oppure vedere in cantinetta la 9 io non lo so sono ancora qualche dubbio e poi tada tada attenzione zoomone perché non arrivate le patch di gennaio sul Wiko Wiko che non è mai stato aggiornato quando l'avevo messo in cantinetta e invece ci ha stupito perché pensavo non arrivassero mai e invece sono arrivate le patch di gennaio rimane Android 8.0 rimane il suo mega occhio là davanti ma è finalmente aggiornato tra l'altro Mobile World Congress ci sarà la conferenza di Wiko il 25 anche lì ci sarò e ve la proporrò insieme a tutte le cose che vi farò vedere da Barcellona Cross Call nuova entrata niente aggiornamenti rispetto a recensione che ho fatto pochissimo tempo fa ma voglio vedere se arrivano le aggiornamenti o meno e quindi l'ho messo qua in cantinetta Moto G6 Plus purtroppo nulla mentre Z3 Play si patch di gennaio 2019 purtroppo Android non è ancora PAI è ancora l'8.1 ma comunque è stato è stato aggiornato HTC U12 Plus attenzione anche lui è una new entry me l'ho mandato direttamente HTC patch di sicurezza vedete primo settembre 2018 Android ancora 8 un po' fermo un po' fermo adesso mi ricordo la recensione che patch avesse sicuramente non queste era probabilmente con delle patch successive ma non lo so vedremo HTC a Barcellona forse un live quindi un medio di gamma non è ancora arrivato nulla meno a me per quanto riguarda gli inviti non lo so vedremo però già avere un HTC U12 Plus qua in cantinetta è un risultato e poi BlackBerry Q2 cosa è successo niente ancora Oreo ma invece sì perché sono arrivate le patch dicembre 2018 e poi il Sony XZ1 che finalmente in nota si è aggiornato vi ricordate per qualche mese mi sembrava strano perché Sony è una di quelle aziende che aggiorna veramente quasi subito all'uscita delle patch praticamente quasi in parallelo con con i Google Pixel però c'è stato qualche problema mi hanno confessato in Sony nel software nel software nel server di aggiornamento invece hanno sbloccato tutto e adesso funziona è arrivato Pi quindi praticamente si è messo in pari con con i suoi fratelli XZ3 eccetera 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 è un telefono che mi è sempre piaciuto ma adesso che lo prendo in mano mi sembra veramente ag giusto per non non offenderlo con questi cornicioni sopra e sotto ma lo teniamo qua per vedere se verrà continuamente aggiornato direi che per la cantinetta ci siamo appuntamento a tra pochi giorni al Mobile World Congress manca veramente poco non vedo l'ora di andare per raccontarvi tutte le novità e sul blog troverete ovviamente di ogni conferenza il live l'anteprima video insomma le solite cose ciao ciao l'anteprima video Grazie a tutti